Al volante in stato di ebrezza, a Padova sono stati pizzicati in 600 dalla postrada nel 2017, un dato ben superiore alla media nazionale al quale va aggiunto quello delle infrazioni rilevate da carabinieri e polizia locale. E da alcuni mesi la postrada controlla anche la presenza di droghe nel sangue, anche se è un'operazione più complessa che richiede esami di laboratorio e la presenza in strada di un medico della polizia. Io riterrei il conducente padovano tutto sommato sufficientemente disciplinato. Certo ci dobbiamo concentrare su alcuni obiettivi, quelli di cui si è parlato, appunto la velocità in generale e la guida in stato di ebrezza. A preoccupare le forze dell'ordine è anche l'uso in aumento del telefono mentre si è alla guida, con quasi 700 casi. Per quest'anno aumenterà il personale in borghese che a bordo delle motociclette cercherà di stroncare questo fenomeno, prima causa di distrazione. Quella per la quale siamo più preoccupati sicuramente è l'uso del cellulare alla guida, perché quella crea distrazione ed è causa frequente di incidenti. In aumento poi controlli sui mezzi pesanti e sugli autobus che portano studenti in gita. Per i ciclisti il messaggio è quello di usare le piste riservate e indossare l'abbigliamento di sicurezza, anche se non è obbligatorio.